Ciao a tutti, sono Tommaso Castello. Ieri ho avuto l'opportunità di incontrare i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure, i quali mi hanno posto diverse domande sul cosa significhi essere uno sportivo professionista, sul cosa mi abbia consentito di diventarlo e su quelle che sono un po' le caratteristiche della vita di uno sportivo, quindi dal punto di vista dell'allenamento, piuttosto che dal punto di vista della routine quotidiana e anche dell'alimentazione. Devo dire che sono state domande molto interessanti, spero di avergli dato un po' un quadro rispetto a quello che significhi, perlomeno dal mio punto di vista, essere uno sportivo. Mi hanno poi fatto domande più personali legate alle emozioni che mi porto dentro rispetto ai ricordi, ai tanti ricordi che ho maturato sin da quando ho iniziato a calcare i campi, non solo in giro per l'Italia, ma anche a Genova, dove ho iniziato a giocare da ragazzino. Abbiamo concluso con quelle che sono state invece le delusioni e i momenti più belli della mia carriera sportiva, sperando che possano tornare a essere numerosi. Alla fine dell'incontro li ho lasciati col messaggio di mettercela tutta per ottenere i propri obiettivi, per realizzare i propri sogni. Non importa quanto difficile possa risultare, quello che conta è non demordere e andare avanti. Ciao a tutti!